Salve a tutti i cari telespettatori, hai tre minuti, ma noi, vabbè, allora, non lo so che cos'è che vogliamo dire, non sappiamo come ci chiamiamo, non lo so, Mr. X e Mr. Upto, no, nemmeno Ted, no, si dì, mi ha dato un soprannome così geniale, allora, lui si chiamava proprio Mr. X nella radio, invece tu, e io non voglio farti, allora, Sto a volte sta andando bene con questo, no, no, non è bene, anche prima è andata bene, mi diceva, no, no, non mi sono mai pensato che un organismo vivente potesse combattere così bene, eh, eh, hai visto, siamo esseri più verdi molto bravi, soprattutto Vegeta, che non rispetta le donne, no, non, non devi fare così, Vegeta, Vegeta, Hai un attacco speciale, giusto, aspetta, però, vicino di a lui al massimo, così, eh, perfetto, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, eccolo lì, vai, ciao, non ci credo, eccolo, viva, no, stiamo per vingere, davvero, non me lo so, E vede come non vingiamo neanche stavolta, vuoi vedere, è possibile, non, il cavolo è finito, non è finita, ok, hai lanciato il... Sì, ma D.C l'hai lanciato, scusa, al cielo, per nemmeno se la pronuncia l'è bene, oh, l'ho trovato, guarda, vanno là su, è lớpida, è l'altro, no, ti prego, non mi devi uccidere, per favore, non mi uccidere, dai, o cazzo, allora, ragazzi, questo la vedo io, Allora, 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 dove sta? Dove sta? Donde sta? Tante, solo un pugno devi dargli, un pugno! Oh, l'ho fatto fuori! Che valore tanto! Vigitore, non mi aspettavo che resistessi così a lungo. Infatti è stata una A. È stata molto ardua, ti dico io quando ho fatto male. Allora, abbiamo preso una A, non male. Quindi, niente, ragazzi, per oggi è tutto. Allora, al prossimo video, wow!